mi va ci va bello sembra che sto pisciando comunque lo sa che devi andare con rt credo vai vai esatto avrò andrà avanti non andiamo intanto solterlo è carino che questo sei ma donna mamma mia o ma che era come falso ci riesce saltare questo no questo ci fa saltare ma siamo tipo in un giardino no e non potrebbe andare qui no tipo siamo ragazzi in un giardino quali a vestivo a sopra forse no no ma lì sono aspetta vestivo sopra quasi ma con sta bisciadina che ce faccio non lo so perché non mi fa eccoci qua io intanto casco a caso ma non ci possiamo aggrappare hanno fatti quello sto cercando di fare ma non mi fa comparire a tesi però a comparire no è ammazzata aspetta un attimo non può a me ne pare qualcosa ma avrò un po a tira qualsiasi di da roba si tutto cosa con che tasto è all'altro forse boh regà per dio se l'hai fatto con di cosa ecco eccolo l'hai fatto ma prima faceva la pisciadina ma com'è l'hai fatto io mi devo fa niente no avesa di rompe forse qualcosa già basta cosa e adesso fai un po il doppio il doppio doppio sanno aspetta che lo ce l'ho vai quindi devo salire è sì è che t'ho avvicinato no rb ha già l'armato ok perfetto vai qui tocca a te faccia tutto allieppo alliecca lumbia no bene ho che a non rimbombarmi eh con l'audio no no è sempre un rimbombo aspetta 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 che forse so io che non ho no io ce l'ho basso l'audio ok mira spara tira ma così oddio ma devo fare io grande figata e io io falso io fai ammazzare penso che con la falso dove l'ho ammazzato ti faccia la piglieria tu occhio definiti definiti si hai capito se cazzi averi allora vediamo cosa c'è qua allora questa è la stessa cosa tanto raga abbiamo capito ho capito ok meglio un po' che e pianta esce cosa devo fare io vai perché poi c'è davanti a io allungati gira crea foglie faccio crea foglie ah ecco forse così ah è come se te faccio forse un passaggio tipo tipo che salta questa in questa maniera aspetta però dove dobbiamo scusate dall'altra parte aspetta non lo allungassimo tanto ah così devi andare però sul muro dalla parte opposta no no è vero è di là e di là dove stai andando tu ok lo vedi che c'è devo fare foglie no scusate rega scusate un altro lo chiudava finestra qua c'è un passaggio di non so che ovviamente ragazzi sempre quando tu fai le live capito è proprio d'accordo giardinieri e spavano geova sempre quando tu fai le live capito o no e ma io non mi faccio a passare ah di qua aspetta aspetta forse musea per qua o le io però aspetta una petta forse devo far qualcos'altro ancora io però dico quel coso dove vai e non ci arrivo aspetta però un attimo per tornare un attimo dietro aspetta ma ti faccio tornare un attimo indietro così perché mi sa che devi rompere e l'ha visto qua da qua mi sa di un per qualcosa no non so se ci viene acqua falci tu proviamo no fa soltanto quella sorta di vabbè aspetta aspetta un attimo ma di là non ci va gira a di qua si però ci va ecco aspetta siamo qua acqua se qua che va unicago è la deficiente è caduta a forse te mancava che foglia no unica cosa che mi manca mi sa forse troppo distanti alcuni aspetta aspetta fermo 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 aspetta 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 ah non me ne faccio ancora oh e no oltre lì non me lo fa perché morto aspetta trovo così no doppia antina così così è sempre credo troppa che sono distanti no aspetta aspetta no no vabbè comunque ci puoi andare ad aprirla scusate che sono poco coordinato problemi miei quindi è bella visuale del cazzo però tante volte ok ci siamo arrivati ma io poi qui ad un tanto spazio a pianta passaggio esatto allora io devo tornare aspettami di 2 io intanto in il suo voto io mi sa che arrivo da là perfetto eccolo voilà eccoci ok vediamo un po di che si tratta ah sempre uguale ok allora vado avanti intanto faccio le foglie secondo ragazzi che devo leggere un messaggio sì quello sicuramente maghi no stavo leggendo rispetto al mio problema grazie al cacchio cioè nel senso ok però ok che è risalita la motivazione fisica però porca puttana il resto vabbè aspetta posso passare sì allora voi devo questo non la posso annaffiare no eccomi intanto io ah no questo ce l'ho pensato io credo eh mo si adesso la puoi annaffiare ora si aspetta vive olè dove si va oh cavolo ma che è ma io che faccio devo fare aspetta se lui che io ho aspettato a me la mano ma non posso lanciare la roba aspetta e ci ha come però aiuti da un po di botte così occhio a via io io ho capito però io ho capito io ho capito un po di massato e bravo a o e dai a via a io guarda che bastardo vai aspetta e dai ritiro giù vai a via non mori non mori non mori non mori occhio a io no vai a o e che cazzarola riuscire a riuscire a riuscire a riposidio maio qua a io eh però vai no aia aspetta che muoverebbe ritorna su vai ma basta no non mori non mori non mori non mi ok ma va vabbè regalo ma non riesce a farla aspetta vai 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 no no mi ammazza aspetta a montare io io da questi benedetti vai ok fatta acquata c'è rotto mamma mia ragazzi c'ha veramente ammazzato dieci volte o si va e do green green house c'è scritto grillo ok ma qui sta un gioco in niente no credo aspetta dobbiamo salire qua aspetta così arrivo ma che c'era pure un'altra cosa qua sotto si è qua tu devi venire e aprire che cos'è questo boh boh ok no the whole green house is infected it looks like it's spread from over there yes it did you recognize that plant no no i didn't plant that are you sure what about the first flower you planted in the green house you mean joy what is is that joy i didn't know you named your plants well just that first one you know i i just wanted to make sure that joy would always be part of our lives oh cody that's sweet yeah well it doesn't matter now does it everything's infected there's still time cody kill the infection and make your garden bloom again ok book you're right come on man we have to stop this come on man ecco il libro quel libro mamma mia vamos quindi c'è una sorta di piccolo boss comunque ragazzi questo gioco è veramente veramente carinissimo ma ripeto a parte il fatto che sto a 30 anni che lo stavo a portare però l'avete finito 18 volte voi intanto però questo sembra il cesso e io che fiscio salve lei che sta facendo dobbiamo saltare sulle foglie e perché mi ha fatto di impi quello non lo so ma ha alzato le foglie ma è sicura ma io non ce ne siamo accorti va bene due rincoglioni super mario aspetta che io qua ho sei i problemi vanno dopo fa ste cose io sto facendo la strada anche senza no e va bene ma no salta salti salti lei ok ok riempio si devi aprire ok bravo eh c'ha sete la pianta vive ha capito ha capito come vive chi è quel non salve è questo è carino magari è menanto oh ah l'uva raglio eh io glielo levavo al culo non lo so forse è pronto anche perché riesce a ferirlo anche perché sono gli altri pirla che l'altro dov'è ah aio aio ecco in queste fasi di combattimento potevate rimettere lo schermo è bravo è bravo così non ci si capisce no aspetta ti rubi lo scudo di quello non riesco ma no ma maia mi fanno con la aria dai barongoli dai dai ho capito che ce ne stanno ancora aio aria aspetta ti rubi lo giù lui vai altra botta vai aspetta amatta quelli perfetto ci siamo combattimento un pochettino arduo signori salve Che carino Come and go Oh, come and go Oh, that's Cody What about you? We'll find another one Come on, let's go What do I do? Ask Tio non ho capito se poi scende tutto il ragno scendere scendere no nel senso che scendere di sotto il senso sopra comunque sempre a ragno dico sul pavimento sotto diciamo cioè sulla terra smontata ragno no non posso comunque è qua che dobbiamo andare infatti tirò su un attimo le piante questa la devi aprir tu no no se due gradi innaffia o fatti in modo dell'acqua ok ma non sarebbe di tenere la fermo 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 e devi tenere sempre su perché ma adesso che le fanno l'avvento vanno a su vai 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 ok ok perfetto sono arrivato qua tu puoi scendere dall'altro lato esaltare salve eccomi faccia carino ragnetto il mio ragno attenzione sbagliato liberiamo ragnetto di cittadini anch'io eccolo voglio immaginare la madre ragazzi ragnetto voglio immaginare la madre questi cosi mira ragnetto la mira ragnetto a per la sopra come fatto basta mirare sopra di mal di mare questo punto glielo sconsiglio perché è veramente che tocca a tornare sopra può essere come fatto sempre come prima con la regia vera tavola era raggadela rt no scusa fai a fai a nota che ha mirato ok lo stai si devi fatto non ho fatto prima mi esegui un pochettino l'albero andiamo ma qual è tocca di ritorno su vediamo che sta tornare qua troppo ovviamente scendiamo da questo lodo ok se via 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 però lo stavo comunque io sto seguendo un altro ma non so se stanno bene non credo dobbiamo rese con l'altro ma non credo un attimo verso tipo a me ritornati indietro aspetta non mi torna qua come sotto tipo verso becca diamo di qua poi andiamo su si bloccano sopra 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 guarda aspettando un attimo aspettate un attimo quando decidi di fare esplodere il tuo computer un po dall'altro lato quasi ok ok questo ci devo pensare io io lo riempio comunque al futuro ragazzi insomma il video finirà sul nostro canale youtube che trovate sotto chiaramente le informazioni fateci sapere che cosa ne pensate commentate condividete se mi va dove dove si va di qua seguimi seguimi fori ok penso dobbiamo andare da questa parte alto cosa gira come gira e quindi tocca seguire sicuramente il corso del suo voto no dove qua e poi no guardi qua quarte vediamo dove gira adesso a sinistra adesso no no bravo i gasti ci siamo ma segui a me perfetto aspetta un attimo ok eccoci qui chi ci deve pensare io e poi tu credo cacchio di visuale io no vabbè bocca sarola simpatica sta pianta no non mi tocca fa no dimmede no che fate che cosa stava tentato di su sopra sopra si devi comunque evita no apri vai grande vado scarica mondo che vanno una da una parte una dall'altra ovviamente immaginavo dice manco dove guardate io perché sono per me in funno io vado per la strada poi si pure io ci rincontreremo ma ecco un giorno salve anche da queste parti qui c'è un fungo ah mi sa che tu ti fa qualcosa per togli tutto sta robaccia e cosa eh boh non mi risette fa fa allora la ragnatela non la posso usare ma ok posso andare qua se qui si mi entra la parola lascia mi pose per camminare lì no non puoi no aspetta ora si dovresti visare sopra un po più avanti invece fanno là c'è una cosa verde quello so io sì perché dovresti usare lì c'è l'asso però non mi sembra stanno che non te fa è vero non mi fa raga non mi fa andare avanti provare a cambiare un po visuale magari ma poi c'è come c'è va non credo fa qualcosa io no non credo bella strano questo gioco a tratti lega si pianta un po legnoso eh perché comunque non non è intuitivo non ti lascia spazio che fa qualcosa perché secondo me dovresti andare là sopra ma non ti fa lanciare la cosa no lanciare non me la fa lanciare però ci fa lanciare altre cose tante belle madonna ma rimette di là ma il verano da un'altra parte perché c'è quel percorsino lì è quello dovresti fa quello se no che mi sembra strano che ti ripeto e scendi e niente sei buggato ok perfetto aspetta secondo me dipende anche da punti secondo me anche lì te la farà lanciare però dipende come la metti se non vuoi lo fa se ballano sti cosi no non credo però lo vedi che quel coso è tenuto da quelle ragnatele se io tagliassi le ragnatele ma è strano che non ti fa salire là perché dovrebbe far salire ah forse che non ci stai sotto sotto eh sì forse per quello aspetta fammi torno un attimo indietro io un po' se magari ma che bordello ma la gente che deve trapanare a quest'ora una sola domanda perché perché trapanate a quest'ora pur qua fammi ragione aspetta un attimo ma perché ma perché ma perché dovete trapanare perché mi domando e dico io vai no niente non ti fa salire che palle quando è così il nostro gioco si incarta così guarda il gioco è veramente odioso a volte che si incarta ma non puoi fa niente eh no perché io aspetta fammi che torna indietro ma non credo che 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 non possa far qualcosa vediamo ma non penso no perché vengono da qua quindi anche un regno ci siamo incartati ci siamo ma io poi non posso fa niente perché perché sono tutti che stanno all'assunto ma per me se è baggato cioè perché te la dovrebbe far lanciarli in teoria vado sparato a caso no questo è quello di prima almeno che non dovresti spacca quelle ragnatele più vicino e con che cosa però non è che ti hanno tu però come io non ci va che la ruota è l'unica soluzione c'è un bug su quella sono mai c'è un baggio là sopra non riesce a scendere perché qua tappa scusa lì no perché che sembra strano che dovresti andare lì in teoria la no perché a ricorde logica regà poi questo non salta ovviamente un ragno i ragni saltano in teoria sì in teoria sì scusate non so vedi qua la mette c'è perché quello che dove cerca un attimo di capì devo un attimo capire perché forse ho capito qualcosa vai vai avanti vai lì esatto vai attivati vai fino al bordo al bordo qua adesso guardando dove sto io sì cioè dove stai lì tanto che ti dà l'indicatore si gira esatto gira bravo prova ma un po perché ma se l'era quella robaccia guarda un po esatto vai vai si riesca andare io dite gli di andare a il paese mai aveva minuto a sta robaccia da mezzo mai ora ok io intanto sono passato aspetta un po se mondo fa qualcosa io da dove sei io sono di qua io devo dire a giusta cosa ma poi mi servi tu qua forse che tiro giù questa massima come servi sempre lui è sì come c'è di villaggio forse se sali su una ruota forse forse se salgo ma posso tirare la ragnatela lì o non credo e salgo sulla ruota però di fa qualcosa tu costa ma poi si bravo queste che vedi dove che devi riempire l'acqua magari sa a volte una prospettiva un po più vero forse sì vai forse ci arriva aspetta che in mezzo sta qua vai dovrebbe sapere che arriva no fish non ci arriva grazie 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 ciao grazie 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 ma aspetta - grazie �iltro- però che non devo ma qualcos'altro ne vede per tanto a a eccolo aspetta aspetta ah e di non penso che possa di sopra guarda lancia sopra la cosa ragnatela lancia lancia aspetta di mettere bene eccolo ok lancia lancia adesso dovresti scendere ma tu guardate che cazza radio di cocolato che è a fermo 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 pensavo anche arrivato sto gioco or co2 era semplice ragazzi però veramente è carino oh i get it she's their mom ah che carina aspetta fermo fermati ok ciao ma che carina che è stata non ci aggrediti vabbè giustamente i figli li abbiamo trattati bene questa cosa che fa sopra ma aspetta in quali qua oddio li abbassi ah io cazzo ha così così aspetta ma un po un piccatello perché le stanno pure mi compari loro però abbassarli voi questi avevi posso uscire comunque perdete la barca lui è cascato in tetta vengono morire adesso non morire tanto sembra che mai per ricominciare da qua però magari alcuni li ho beccati con la presa della posta questi grossi sono quello da basso lui vai visto ma questo da basso questo davanti a me non è già questi si possono uccidere e qui è libero dov'è dov'è vabbè un pochettino l'abbiamo vieno eh no aia ecco kaiser ma è che fischendoci sopra no eh è un esperimento e via ok spia evitiamo i cosi qua i danetti chi è che toccati a loro ah fino a quelli almeno aspetta di più questo sta per morire o non morire non morire ok ci hanno fatto questo qua no 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 piccolino ok piccolini aspetta uno stop e morina aspetta questo qua ok ce n'è ma sono solo per terra di scoppia guardati via guardato vai no non è vero bravo a salmi aia aia ok ok almeno un po' grande la leghiamo da ma ammazza questi vai abbassolo è bassa qua è bassa aia aia che palle che palle ah deve diventare salve aia ah c'è dove non sei io non ero dopo di un vare però io forse da una mano non so se io con sta pisciazza faccio qualcosa non penso questa bravo aio guarda guarda questi svolazzanti che ne si muovono qui è difficile di arti eh a fare remeranto lui c'è aia ai 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 vabbè la genia che cosa dobbiamo fare però continuare da ammazzarli? non lo so non so se ti dico qualcosa tu perché una certa finiranno quello quello che sei in testa toglimi ah di vi innaffia la pianta da volte copro io tanto preoccupato innaffia la pianta dei geni dei geni noi comunque è che lo è chiaro e sparaglie dai guarda quello se l'amo aspetta vedete qua si aspetta questa data abbassa io vai spacca dai dai guarda ma che era ok quanto abbiamo? ma una ventina di minuti ancora ce l'abbiamo dai cosa riusciamo a fare in venti minuti? non lo so vabbè andiamo ecco un altro po' avanti poi nel momento in cui li salva magari che carino io ho paura eh eh incontrami i topi no te prego scopastri questo mi sembrava una talpa comunque si si no che è non scogliate no scogliate i suoi amichevoli eh in teoria le pietà oh mi 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 si non mi i i li mi tu si si ecco fatto vada la missione stealth ci doveva stare e beh ovviamente non dobbiamo far casino a quello dovrebbe essere il rumore giusto dove dormono via c vostra bene aspetta fermo da dove si scende dobbiamo andare sul morbido secondo me non sulle cose che scricchiolano che ma perché ma tutto sto rumore ok devo salta sul morbido trattare è lì dove sta bene bravo e capirai capirai la panza che mi ritrovo a prossimo aspetta mia ma che carine di quest'altra piano piano molto piano di zitti aspetta mia io lo sai che avendo il fisico di aspetta che qui è un po più lontano mamma mia e mo ali aspetta aspetta che non è fuori paura che ci arrivo non ci arriveremo mai laggiù moschi mamma mia come rischia e aspetta aspetta un attimo il sarto del giaguaro qua attenzione guarda come faccio i danni eh guarda come faccio i danni mo aspetta eh ok Ok, non mi aveva fatto. Ok. Ah, non tocca se lì come... Ok. Ok. Mamma mia. Devi stare calma, però. Sì. Allora. Sì? Vai. Che io poi non so cosa divento qua. Wow, guarda te! Ah, sono io! Ah, sono io che ti faccio da... Da tappetino. Che detto così? Sì, però seguimi, nel senso... Esatto, vedi i miei, sennò poi vai a finire su... Piano, però. Vai. Vieni. Che fai? Che fai? Vai. Ti ha dato piano piano, eh. Mo me sa che devi salire là sopra, tu. Aspetta. Dove stanno le foglie? Bravo. E io? Tu giri? Giro dove? Dove... Dove vado? Vieni qua? Alta? Eh no, ma aspetta, fammi annullare un attimo. Non mi fa fa nient'altro a me. A me non gli passo sotto, ma non credo. Prova. Provo? Sì. Ah, ok. Gli passo sotto io. Vai, aspetta, ti faccio il morbido, vai. Eccomi, andiamo. Che figata. Ieri, ieri, seguimi. Piano, seguimi. Seguimi, seguimi. Questi dormono, tanti. Piano, vieni. Vado, oh? Vai, vai. Facciamo un passetto che passetto, che sennò qua... Vai, 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 avanti. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Adesso devo aprire qua. Adesso devi mirare bene. Intanto, attento a sapore. Vieni, 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 vieni. Vabbè, giustamente. Ma dobbiamo ancora... Un po' di rumore lo devo fare, non è un po' di rumore. quando si vede la mazza ok sopra dobbiamo andare per fermo fai ok pieno per guarda la visuale di ok ma è che te pareva che se girava maledetta no vieni su vieni su vieni su vieni su stammi dietro allora adesso devo andare lì e riempire quel vabbè avete capito quel foto vabbè ma appena ci arriviamo da sotto no da qua già da dove da sopra si 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 vai vai da sopra aspetti io non te vengo lì sotto perché penso che ti servirà a riempio piano vai 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 da botte tempo per volta basta 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 che cosa abbiamo fatto non lo so aspetta molto vengo a ritrendere non aspetta a salta di la piano a vero fermo fermo stai fermo che c'è e tenevo aspetta io con l'erba perché detta pure così ciao dal potte ciao tal che aspetta ed non so se ci arrivi là dopo che poi sarti grandissimo ma dopo gli anni non so su da calcola posso da freddo se scadena nei tappi ci fanno neri in culatrici ma quanto magnano queste o e queste mani è un buono sarò ma quanto è so maniera non so faccio da tappeto molto piano e adesso adesso io vado a chi non ha fermato tanto danno anche io devi seguire sempre me che tanto quale se boss la ciccola ciccola quello non lo so ma aspetta un tanto come che arriva vieni come stanno dove si gira che c'è una crisi e c'è ogni tanto piazza sia ho capito tocca approfittazione stampieri che aspetta mai apposta apposta passati quasi quasi ci ha quasi preso legate un like soltanto per questo poi si si è sentita no era appena accennata dai aspetta non esco dal muschio sta buono asalta lì che è l'ottaccio nostra appare non so fai dire con braille che si è vero e guarda che è ritardato guarda che è ritardato poi salta già già fino ragazzi veramente coso qua è veramente pesante 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 da comanda ok fai parca spacco tutto dai e per ore no 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 domogore è dei risultati e dice NE d per a madre ha aspettato da percianto una cosa cosa buona non ci vedono a me mi pare che sceglie benissimo adama perché tanto di rumore ma come due della visuale di merda ma che è fatto giardino ma che cazzo senza frontiere questa la taglio ma che è già di senza frontiere madonna santa no bellissima questa visuale ok che doveva scendere giù sicuramente che questo razzo si rompa e ma come è tutto insieme ciao dalla parola giù spiace ad alba a ciappola d'alba orto cane si ciao si vabbè rispona qua grande è la prima volta ragazzi tutto il gioco che riesco a saltare così torti che so mamma mia rega mamma mia raga ma che era un ralenti ma cos'era ma che cos'è che stava a creare porca puttana ragazzi le talpe aggressivissime non è vero che sono così aggressive non è vero ok ok oh oh god that is disgusting hey hold it big boy my back is killing me today hey you take the fat one hey i'm right here used to do yoga like me double frog come on little clay boy nothing from you nothing from you hey wooden doll over here hop on sorry namaste allora su questo su questo diciamo bellissimo su questa bellissima immagine di noi su queste ranocchie ragazzi ci lasciamo io vi invito come sempre insomma a visitare il canale il nostro canale youtube anche che trovate sotto nelle informazioni magari lo sto dicendo per chi rivedrà la live e arriverà a questo punto e nulla ci vediamo alla prossima ragazzi con un altro episodio ciao a tutti ciao a tutti ragazzi e ovviamente seguiteci anche sui social e quant'altro ciao a tutti di nuovo ciao 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 ciao